Motivi per visitare o per tornare alla Galleria dell'Accademia di Firenze ce ne sono in abbondanza. Fino al 18 marzo 2018 ce n'è uno speciale, la mostra temporanea Tessuto e ricchezza a Firenze nel 300, lana, seta, pittura, dedicata all'importanza dell'arte tessile nella Firenze del tempo, dal punto di vista economico, artistico e nei costumi della società. Una mostra di non facile allestimento, data la difficoltà nel reperire le stoffe originali dell'epoca, ma stimolante visto che proprio nel 300, soprattutto dopo la peste nera del 1348, nascono la moda e il lusso. Tendenze che si diffondono rapidamente in tutta Europa e che influenzano l'economia, divenendo la base della ricchezza di Firenze e la produzione artistica. L'esposizione è ideata e curata dalla direttrice dell'Accademia stessa ed è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo. È proprio il tessuto che ha questo tale fascino che i pittori ne rimangono abbagliati e iniziano a imitarli. A imitarli cercano anche di imitare la materialità di questi tessuti nelle loro pitture, cioè imprimono proprio anche nei fondi oro per far comprendere proprio di quale materiale si tratta. Il percorso espositivo è cronologico e approfondisce lo sviluppo e la provenienza dei manufatti. Tra le sezioni visibili, le geometrie mediterranee che rimandano al mondo musulmano, il lusso dell'Asia mongola con i piccoli motivi vegetali e animali e le creature alate degli ornamenti tessili di influenza cinese. Le invenzioni pittoriche evocano i disegni delle sete pregiate, lavorate da tessitori altamente qualificati. La sezione dedicata al lusso proibito prende spunto da registro che dal 1343 al 1345 annovera le vesti proibite, elencate nella cosiddetta prammatica delle vesti. Chiudono l'esposizione i velluti di seta che anticipano gli sviluppi della moda nel secolo successivo. Tra le opere più rappresentative presenti in mostra ci sono un vestitino in lana prestato dal National Museum di Copenhagen, confezionato sulla metà del XIV secolo per una bambina e recuperato dagli archeologi in Groenlandia. E ancora il Battesimo di Cristo di Giovanni Baronzio, proveniente dalla National Gallery di Washington. Arriva dalla Toscana, dal Museo del Tessuto di Prato, un frammento di tessuto con fenici e foglie di vite. Dal Museo del Tessuto di Lione arriva invece un corpetto di seta e oro, indossato, secondo la tradizione, da Charles de Chatillon, conte di Blois, quando fu ucciso durante la Guerra dei Cento Anni. Tra i dipinti l'incoronazione della Vergine Quattro Angeli di Gerardo di Jacopo, proveniente dalla Galleria Nazionale di Parma, e ancora il grande crocifisso del Tardo 200 appartenente alla Galleria dell'Accademia stessa, restaurato per l'occasione, che testimonia con il motivo decorativo la ricchezza delle stoffe islamiche più antiche. Chiude l'esposizione il piviale del Museo Nazionale del Bargello, che documenta la sfarzosità raggiunta da Firenze nel campo della seta e dei velluti.